E c'è un furgone con della gente con dei mitra, delle pistole, c'è gente qua con i capucci, c'è gente che scappava con i mitra, le pistole, quante persone sono? Guardi, almeno una decina di persone c'erano, hanno messo pure a fuoco, hanno messo pure a fuoco, hanno bloccato la strada pure qua, non ci può passare! Sì, ciao, è la Sicur Transport, mi siamo sotto attacco, siamo sotto attacco! Grazie! Grazie! Grazie. Grazie. tra me ma se non dica a nessuno che ha quelli soldi perchè sta con me ma non lo fa no ciò non lo fa non lo fa non lo fa non lo fa e se lo sa appazzcavo e non lo fa non lo fa e non lo fa e non lo fa 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 me non lo fa non lo fa non lo fa no non lo fa non lo fa non lo fa a lan Grazie a tutti.